Ancora oggi noto che su molte strade, anche a percorrenza veloce, esistono tratti di asfalto ad alto rischio. Se vogliamo davvero incrementare la sicurezza stradale e diminuire i costi sociali delle vittime della strada, mi auguro che la nuova tecnologia nell'utilizzo dei pneumatici fuori uso possa essere sfruttata al meglio per migliorare gran parte della rete stradale a vantaggio di tutti, sia per chi guida, sia per chi ci lavora, sia per chi la gestisce. Ma ora vediamo insieme quali sono le caratteristiche più importanti dell'asfalto modificato con polverino di gomma dal punto di vista della sicurezza stradale. Ora vi simulerò uno slalom secondo normativa ISO per dimostrarvi la differente tenuta di strada ed inserimento di curva su asfalto tradizionale e asfalto modificato con polverino di gomma. Ora simuleremo una frenata d'emergenza con e senza ABS che abbiamo volontariamente disattivato sia su asfalto tradizionale sia su asfalto modificato con polverino di gomma. Se viaggio a 50 km orari per fermarmi ci vorranno all'incirca 25 metri, a 100 km orari, ovvero il doppio della velocità, lo spazio di arresto sarà di 100 metri, ovvero 4 volte di più. Aggiungiamoci anche il fattore riflessi del guidatore che varia da persona a persona, potete dunque immaginare l'enorme vantaggio di poter guidare su asfalti con polverino di gomma in grado di aumentare l'aderenza dei vostri pneumatici e diminuire al tempo stesso gli spazi di arresto. Il fenomeno dell'acqua planning è una situazione d'alto rischio per tutti i guidatori. Un recente studio comparato su asfalti tradizionali e asfalti modificati con polverino di gomma ha dimostrato una diminuzione del ristagno dell'acqua e una maggiore resistenza alle intemperie. Questo asfalto modificato con polverino di gomma è davvero incredibile, sembra quasi di guidare sull'asciutto. Un'altra proprietà del polverino di gomma è la sensibile riduzione del rumore generato dal rotolamento dei pneumatici e dal traffico in genere. Ma adesso andiamo a vedere che cosa accade all'interno dell'abitacolo. Riassumendo, maggiore durata e minori costi di manutenzione, evidente diminuzione della rumorosità dell'asfalto, migliore resistenza all'usura e all'azione dell'acqua, maggiore l'elasticità dell'asfalto alle alte e basse temperature. Queste sono le principali proprietà degli asfalti modificati con polverino di gomma.